Il cuore pulsante di Monbaroccio, è così che lo hanno definito coloro che si sono riuniti oggi nella chiesa dei Santi Vito e Modesto di Monbaroccio per dare un ultimo saluto a Varis Iacucci. Ricordato da tutti per la sua grande passione per i musei, la natura e l'amore per il proprio paese, Varis è sempre stato un grande combattente fino alla fine dei suoi giorni, quando la malattia se lo è portato via. Ogni giorno, era un giorno nuovo e l'ultimo giorno in cui l'ho visto nella sua lucidità, perché in ospedale purtroppo la malattia stava facendo il suo decorso, mi ha detto Sindaco, io sono pronto, io sono pronto ad abbracciare la morte, sono pronto, dovesse essere oggi, dovesse essere domani, comunque io sono pronto, quindi stai tranquillo. Io uscire all'ospedale, non dico sereno, ma sicuramente con un stato d'animo più libero, Varis è stato un riferimento. Ogni mattina che arrivavo in comune, era la prima persona che vedevo ed era la prima persona che dava i consigli su quello che c'era da fare di giorno, che cosa avevano dimenticato giorno prima e quello che dovevamo fare domani. Domani Varis è stato un riferimento per noi come amministrazione, è stato un riferimento per le scuole, è stato un riferimento per i turisti, per i nostri concittadini. Quando cercavamo di fare qualcosa, la prima cosa che ci veniva in mente è chiediamola Varis, che sicuramente trova una soluzione. Era un riferimento per il bosco, per il sottobosco, per il legame con la natura. Un riferimento per la cultura del territorio, visto l'attaccamento e la passione che avevano nei musei. Siamo nella sede dove lo trovevamo tutti i giorni, perché casa sua non era a 100 metri, casa sua era questa. Lui non stava bene finché questo non fosse aperto, che i ragazzi collaborassero, che i ragazzi vivessero le sue passioni per condividerle insieme alla gente che veniva in Baroccio a trovarci. Numerosi i presenti alla celebrazione tenuta da padre Renato Martino, dai membri del comune di cui faceva parte come presidente onorario, all'istituzione rappresentanti delle forze dell'ordine, ai bambini, a cui Varis ha lasciato un segno nel cuore, insegnando e trasmettendo il suo modo di interpretare l'arte e la storia, facendo da guida ai musei. Per me era un padre, un nonno per le mie figlie, credo un grande uomo che oggi abbiamo cercato di ricordarlo nel migliore dei modi, lascia un vuoto indelebile e anche incolmabile. E quando tu arrivavi a Monbaroccio era il personaggio di Monbaroccio, cioè a Monbaroccio trovavi Varis alla porta dei musei all'ingresso. Mi piace da presidente della parrocco ricordarlo così, Varis all'ingresso dei musei. Soprattutto ringrazio Varis per non correre i miei confronti dopo quello che lo si è usato. Grazie a un intero paese per dire nocci che avete fatto al suo operato. Sicuramente ha portato un paese per comune con Monbaroccio, al di fuori dai confini regionali e nel mondo, al saluto di un caro amico, Varis. Grazie. Grazie. Grazie.